Ben nove contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Otto dei nuovi casi però sono i migranti, risultati positivi a noto, mentre un ulteriore caso è stato individuato in provincia di Trapani. Gli attuali positivi, come comunicato dalla Regione alla Protezione Civile, attualmente sono 134 per un totale di 3.090, 332 con attività di screening diagnostico, a differenza della scorsa volta quando i migranti di Portempedocle non furono conteggiati. Sono 20 le persone ricoverate, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 134 le persone in isolamento. Sono 2.814, 211.317 in totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Diversi sindaci agrigentini dei comuni ad alta densità di emigrazione sono preoccupati per l'arrivo di tanti concittadini per la stagione estiva e temono una ripresa dei contagi. Sono attese 30.000 persone in tutto l'agrigentino. Prevale la linea della cautela e prudenza in attesa dell'arrivo di tanti emigrati all'estero che tra luglio e agosto ripopolano diversi centri della provincia. A Favare e Raffadali le amministrazioni stanno lanciando registri e test per controllare chi viene da fuori. In quest'ultimo comune, ad esempio, chiunque rientri deve segnalarlo attraverso un modulo da scaricare sul sito entro 48 ore dal rientro per effettuare in seguito un test sierologico. Saranno gli uffici comunali a chiedere il test sierologico se lo ritengono opportuno in base alla zona di provenienza e alla professione svolta. La via dei test è quella più percorsa dai piccoli centri. Anche a Ioppolo Giancaxio c'è un registro di tutte le persone che verranno da fuori, cui verrà data la possibilità di sottoporsi ai test sierologici, mentre ad Alessandria della Rocca consigliano i test sierologici per chi arriva da fuori e soprattutto gli emigrati dovrebbero informare la polizia municipale del loro arrivo. L'altro giorno, un uomo di 50 anni rientrato con la moglie dalla Svizzera, paese in cui lavora, è risultato positivo dopo essersi trasferito nella sua casa al mare di San Leone. Un nuovo positivo ad Agrigento venuto da fuori. Il sindaco Firetto predica prudenza. Non smetto di raccomandare l'osservanza delle misure ben note anticontagio. Evitiamo gli assembramenti, dice il primo cittadino.